Onorevole Migliavacca, ieri un pre-vertice del G8 a cui ha partecipato anche il Presidente del Consiglio Monti. Si è ribadita la necessità di unire al concetto di rigore anche quello di crescita. Pensa che ci saranno dei passi avanti su questo fronte? È ora di passare dei vertici alle scelte concrete in Italia e in Europa. Ci vogliono misure urgenti per il lavoro, la crescita, per andare incontro al problema di liquidità delle famiglie e delle imprese, combattendo l'evasione fiscale e dando qualcosa oggi a chi soffre di più.